L'Interquartieri di Muraglia a Pesaro sarà pronta per il prossimo 6 aprile 2024, lo annuncia il sindaco Matteo Ricci in consiglio comunale durante la discussione per l'aggiornamento della convenzione per la realizzazione delle opere compensative alla terza corsia dell'autostrada 14. L'Interquartieri di Muraglia, una delle opere chiave per la viabilità pesarese, sta per vedere il completamento. Siamo molto contenti perché i lavori stanno filando spediti grazie ad Amplia che è subentrata direttamente nel cantiere qualche mese fa e il 6 aprile inaugureremo, quindi abbiamo concordato questa data, l'abbiamo già comunicata al consiglio comunale, è una grande risposta perché va a completare la circonvallazione di Pesaro, l'Interquartieri nel lato sud e quindi toglierà tantissimo traffico il quartiere di Muraglia in particolar modo, il tempo stesso renderà l'attraversamento di Pesaro da nord a sud sempre più semplice e sempre più in pochissimi minuti. Il documento originario siglato dal Comune di Pesaro con Società Autostrade insieme a provincia e regione stabiliva 74 milioni di euro, oggi con l'aggiornamento dello schema si è arrivati a oltre 170 milioni di euro, una cifra che consentirà di procedere spediti con i cantieri. Questa è la prima opera che Società Autostrade realizza, ieri abbiamo riportato la convenzione in consiglio comunale, è una convenzione aumentata da 70 a 170 milioni, abbiamo recuperato così tutti i costi aggiuntivi, tutti i costi degli espropri e tutte le altre opere che devono essere realizzate, quindi nonostante il crollo del ponte Morandi che ci ha fatto tardare tanti anni e abbiamo rischiato di perdere un investimento storico, questo investimento non solo sta andando avanti velocemente ma è più che raddoppiato e quindi siamo davvero molto soddisfatti. Finita questa poi inizieranno tutte le altre opere che sono la circonvallazione di Santa Veneranda, il raddoppio degli interquartieri esistenti, la bretella dei Fratelli Gamba, cioè dalla Montella Bettese all'attuale casello con il raddoppio dell'urbinatico. Essere riusciti a recuperare tutte queste risorse è molto importante perché altrimenti avremmo dovuto tagliare delle opere, invece non si taglia nulla e ovviamente tutte queste opere sono proprio deutiche al casello che sarà fatto a Santa Veneranda e sarà l'ultima cosa fatta. Nel 2024 si finisce questa e si iniziano le altre opere, nel 2025 cominceremo a vedere qualche altra opera finita e l'inizio del casello.